Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Tra il popone e la conduttrice Mediaset, la rottura anche in termini di comunicazione sembrava insanabile. Era già passato un anno dall'annuncio della fine del loro matrimonio e entrambi hanno ritrovato l'amore e la serenità accanto a due nuovi partner. Totti con la sua Noemi Bocchi e Ilari con l'imprenditore Bassett. In questo scenario, pare finalmente essere arrivato un lieto annuncio, come riportato da Repubblica, secondo cui Francesco Totti e Ilari Blasi avrebbero stretto un accordo che prevede la restituzione delle chiavi della struttura da parte dell'ex pupone della famiglia Blasi a favore della scuola calcio dei Totti. Repubblica precisa che sarebbe stata proprio la conduttrice Mediaset a fare il primo passo, consegnando agli avvocati della famiglia dell'ex marito le chiavi della Longarina, il centro sportivo di Ostia Antica. Al centro della disputa negli ultimi mesi, Totti dunque sarebbe rientrato in possesso del centro sportivo, sede della Totti Soccer School e del Memoria Lenzo Totti. Un annuncio che ha mandato in delirio i fan, i quali, ovviamente, sognano ancora il loro ritorno insieme. E voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale. Grazie a tutti.